Nelle prossime puntate Simon minaccerà di raccontare tutta la verità sulla morte della moglie di Arturo, Ilvira farà ritorno ad Acacias 38. Il popolare sceneggiato di origini spagnole Una vita scritto da Aurora Guerra, e trasmesso su Canale 5 dall'Unidial venerdì nella fascia pomeridiana, continua a sorprendere tantissimi telespettatori. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane ci rivelano che il maggiordomo Simon Deyarri ricatterà Arturo Valverde per fare uscire la sua amata Elvira dal convento. Il colonnello non riuscendo a trovare nessuna soluzione acconsentirà alla richiesta del suo ex dipendente. Una vita, il colonnello Valverde aggredisce Simon, Ilvira segregata. I seguaci della SOAP scopriranno, negli episodi che andranno in onda tra qualche settimana sulla rete Ammiraglia Mediaset, che Ilvira e Simon saranno smascherati da Arturo. Il colonnello grazie all'architetto turco Burak Demir scoprirà che sua figlia e l'inserviente hanno intrapreso una relazione, in particolare il facoltoso straniero sorprenderà la sua promessa sposa a letto con il maggiordomo. Successivamente il Deyarri, dopo aver ricevuto le dovute cure dai medici sarà dimesso, e farà la conoscenza del fratellastro Leandro e della cognata Juliana. La coraggiosa biondina sarà allontanata per l'ennesima volta dal fidanzato perché suo padre la rinchiuderà in un convento di clausura per punizione. Ilvira sin da subito cercherà di fuggire dalla struttura e farà amicizia con la suora Adela che, pur essendo consapevole di correre gravi rischi, le prometterà di aiutarla a scappare dall'istituto religioso. Il Deyarri indaga sulla morte della moglie di Arturo, la giovane Valverde torna a casa. Simon deciderà di continuare a condurre le indagini sulla morte misteriosa della madre di Elvira. Il maggiordomo rintraccerà una donna chiamata Remedios che in passato ebbe una storia d'amore con l'amante di Mercedes. Il compito del Deyarri sarà quello di scoprire se la madre della sua fidanzata è morta a causa del marito. Il racconto della signora Remedios confermerà i sospetti del ragazzo. Quest'ultima racconterà al giovane che i due amanti sono morti per mano di Arturo ma, dopo aver fatto questa confessione, La donna dichiarerà che l'uomo di cui si era innamorata l'ha ingannata, e riferirà di essere la responsabile del duplice assassino. Simon si servirà di queste informazioni per vendicarsi e ricattare il suo ex datore di lavoro. Nello specifico Simon minaccerà di rivelare ai giornalisti la relazione clandestina che la moglie del colonnello aveva prima di morire se Elvira non tornerà ad Acacias 38. Arturo, per non disonorare la sua famiglia, dirà a Simon di essere disposto a liberare la sua consanguina ma soltanto se lui se ne andrà via dal paese. La situazione si complicherà per il colonnello dato che il figlio illegittimo di Susanna farà scrivere un articolo sul decesso della madre di Elvira. Quest'ultima grazie al suo amato tornerà a casa, ma subito dopo ci sarà un colpo di scena, il colonnello Valverde darà del denaro a rimedio spera aver raccontato delle menzoni a Simon. Con il suo gesto Arturo farà capire di essere il vero assassino di Eusebio e Mercedes. Con il suo gesto Arturo, per non disonorare la sua famiglia, dirà a Simon.